Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inviato una lettera di risposta al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini riguardo la richiesta di installare barriere di protezione sul tratto di tangenziale in via del foro italico. Nella lettera al ministro il sindaco fa sapere una nota del Campidoglio, sottolinea come si sia provveduto a dare impulso allo studio di individuazione dei tratti e delle intersezioni stradali a massimo rischio incidentalità, i cosiddetti black points, poi approvato con delibera 126 del 21 aprile 2022. Il predetto studio realizzato da Roma Servizi per la mobilità sulla base di criteri oggettivi non ha previsto l'inserimento della porzione di via del foro italico. In proposito, preme evidenziare che in tale tratto, scrive il sindaco Gualtieri, caratterizzato dall'assenza di barriera di protezione centrale fin dalla sua costruzione, il livello di incidentalità è significativamente inferiore ai dati citati riferiti a una porzione ben più ampia dell'arteria stradale. Ciò nonostante ci siamo comunque attivati, dice Gualtieri, con misure di mitigazione della velocità abbassando il limite da 70-50 km orari. Inoltre il sindaco ha ricordato come siano stati già predisposti studi e interventi per mitigare il pericolo di incidenti.